senti parliamo subito di cose serie ho visto The Batman ieri sera bello tre ore di film allora do il mio feedback tu l'hai visto? sì certo ok allora io ti do il mio feedback e tu mi dici cosa ne pensi feedback numero uno ma perché parlano tutti così con la voce bassissima capisco Batman ma tutti cazzo che parlano come non so Terranos hai presente Elisabeth Hobbs che per sembrare più carismatica parlava così e quindi dopo un po' primo problema secondo problema va bene che è dark però alcune scene sono proprio al buio non si vede niente io non riesco a vedere niente metafin non l'ho visto quindi questo è un terzo problema un po' più serio ma secondo te cioè prima se usciva Batman usciva l'uomo ragno usciva James Bond tu andavi al cinema e dici wow questa roba qua è una figata pazzesca nel mentre non avevi un'altra opzione di scelta no oggi invece cioè io so mentre guardavo Batman pensavo vabbè ho visto Suspicion la serie Suspicion è molto più bella cioè è scritta molto meglio è a un budget molto minore e quindi questi film mi sembra che hanno ancora un retaggio così degli anni 80 quando usciva il blockbuster e avevi solo quello da disposizione ma oggi siamo andati un po' avanti quindi mi aspetto molto di più vabbè basta volevo buttarti lì questo tema Batmanifero che mi sembra fondamentale l'evoluzione umana insomma cioè io sono super fan di Batman se dovessi chiedere a me io sono totalmente dentro Gotham City detesto Metropolis perché io sono cioè tutta quell'atmosfera fantastica del gotico della notte ma soprattutto il discorso che tutti i nemici di Batman effettivamente non sono persone con superpoteri perlomeno la maggior parte i più storici sono semplicemente dei criminali pazzi ed è bellissimo che loro non vanno in prigione vanno in manicomio cioè questa cosa l'ho sempre amata follemente l'Arcam scusami scusa se ti interrompo premetto giusta osservazione che non ho fatto cioè io sono un super fan dei super eroi e di bocca buonissima cioè a me è piaciuto anche con Air con Nicolas Cage cioè mi accontento di qualunque di squadra speciale basta che ci sia un film a me piace non è che sia uno che dice no no qualunque cosa va bene però ecco sono rimasto un po' deluso no io sono molto critico sempre specialmente con i supereroi perché ora diciamo che dato che c'è un un sovrasfruttamento del mercato dei supereroi ovviamente ci si aspetta anche qualcosa di molto nuovo e si aspetta che qualcuno trovi una chiave di lettura diversa ad esempio mi piacciono moltissimo Doctor Strange perché ha una chiave di lettura diversa non lo so se ancora non l'ho visto diciamo il primo secondo me della Marvel che ha usato degli stratagemmi narrativi un pochino diversi anche se come sempre i film della Marvel sono un pochino deficitari quando si parla di trama e dialoghi i dialoghi sono sempre molto infantili nel caso del film di Batman io l'ho apprezzato da morire perché c'è tutto il discorso storico di Batman che è un investigatore uno scienziato va sul luogo del crimine a cercare le tracce parlano basso perché ovviamente devi creare quella atmosfera da Sin City quindi sembrano luci scurissime gente incazzata incattivita imbruttita dalla vita perché ovviamente se tu avessi messo qualcuno di ehi ciao sarebbe calata l'atmosfera e lo capisco ci sono anche dei piccoli difetti ovviamente per me il difetto più grande è il fatto che abbiano scelto di fare questo Batman Emo in crisi adolescenziale che non è un difetto è una scelta ci voleva un Batman diverso però ecco vederlo lui tutto incattivito così che poi quando parla con la ragazza sembra che diventi piccolo e parli tutto timido eccetera mi ha fatto un po' tenerezza prima stai picchiando una persona in metropolitana e poi stai con l'est e tipo così mi ha fatto un po' strano però diciamo che in generale per me è stato un gran bel successo ho adorato la follia la fotografia le musiche l'atmosfera ero completamente calato dentro Gotham City ero dentro la storia per me questo è una vittoria poi io sono fan dei film lunghi sono loco eroico di mio quindi di per sé perfetto anche il film di tre ore perché le persone hanno criticato anche quello ma per me proprio sfondi la porta aperta e la storia era benissimo sviluppata non mi sembra che ci siano delle cioè mi piace anche il fatto che fanno vedere Batman fallire in pratica lui fallisce sempre nel film pure quando sta volando col deltaplano piglia una colonna e si spacca la faccia quello l'ho adorato perché ti fa vedere che sostanzialmente è un uomo con un costume il fatto che lui sia costantemente in ritardo scopre le cose quando stanno già succedendo addirittura c'è una scena in cui l'enigmista gli dice ma sei un coglione ma ti ho lasciato tutte le tracce ancora non l'hai scoperto lui si guarda il tonno e dice ma come e non lo so questa è una cosa si fa vedere un eroe che non è un supereroe che in pratica è un essere umano ed è fallibile come chiunque nonostante sia bravissimo non è invincibile anzi viene sconfitto dal fatto che sia in ritardo alla fine deve recuperare quello che gli ha sfuggito quindi questa cosa per me bomba mi è piaciuta moltissimo hai ragione hai ragione davvero ormai parlerò sempre così quando calano le luci di giorno devi essere una persona solare quando calano le luci devi diventare incredibile ma la fotografia hai ragione le immagini infatti ho detto a mia moglie si è addormentata praticamente a me tre ore a me tre ore non ho problemi però la fotografia mi ha colpito e in particolare mi è piaciuta la prima scena quando vedi questa ripresa poi sempre con queste lenti un po' batmanifere interessante poi anche i colori gli abbinamenti dei colori quando lui alla fine porta le persone fuori lo seguono è molto bella la fotografia però insomma un conto è se guardi il film un conto guarda il fatto che è a me 5 meno di incoraggiamento questo è il mio voto però sono contento vabbè vabbè alla fine la cosa bellissima dei film è che sono soggettivi tra l'altro ti posso dire che nel mio caso ho capito perfettamente dalla mia persona quindi penso che si applichi anche agli altri che un film mi piace in determinati periodi storici e potrebbe non piacermi in altri cioè voglio dire ci sono dei film che ho visto nel momento sbagliato e mi hanno fatto cagare dei film che ho visto li ho rivisti poi nel momento giusto e li ho amati alla follia e non capivo proprio cosa avessi visto di sbagliato è proprio che devi trovare il momento giusto il mood giusto il film di Batman è un film con un mood particolare devi essere dentro la storia devi prenderti il tuo tempo devi però per carità ci sono un sacco di problemi narrativi mio parere ti ho detto ci sono delle cose che sicuramente si potevano tagliare ora prendiamoci in giro dei dialoghi che sono assolutamente boh tutto sommato surplus però diciamo che è stato un tentativo un tentativo secondo me eccellente di raccontare una storia diversa c'era una storia bellissima di tanto tempo fa che mi sa che si chiamava La morte di Batman era una storia forse scritta da Neil Gaiman non voglio essere sicuro perché io ogni tanto li leggo mi consigliano quelli che sono più più fighi di fumetti e in questo fumetto si raccontava che La morte di Batman ogni criminale compreso Alfred arrivava sulla sua bara e raccontava la storia di come lo ha ucciso quindi ognuno diceva lo ha ucciso io e raccontava una storia diversa e l'obiettivo del fumetto era raccontare il fatto che tutti questi Batman esistono perché esistono i loro racconti e sono tutti racconti diversi sono tutte storie diverse in cui il buono diventa cattivo in cui il cattivo diventa buono e viceversa e perché è il grande mondo della narrazione dei personaggi che sono stati sfruttati per storie fantastiche a volte meno fantastiche però proprio mi sono stati sfruttati così tanto se vuoi sfruttare Batman secondo me al momento come qualsiasi altro personaggio devi trovare una chiave di lettura diversa questo tutto sommato era un buon tentativo dai sì sì forse il mio bias è anche che è un 12 anni e quando lo vedo dico no questa roba non può essere per le ragazzini di 12 anni poi dici no ma io voglio vedere però la verità è che c'è un immaginario brutto di alcuni cioè ti lascia delle sensazioni sgradevoli insomma che a 12 anni non dovresti vedere secondo me quindi questo magari è la mia boomeragine paterna però insomma o forse perché sta uscendo adesso Top Gun Maverick e quindi sai forse questo cancella un po' qualunque tipo di film possibile immaginabile tipo io non sono per niente gasato da da quello nel senso che io il film lo vidi quando ero piccolo lo ricordo vagamente so che è un cult forse se lo rivedo mi piaceva pure da morire però lo ricordo come un film lontano è un po' come se adesso mi riproponessero il seguito dell'ultimo di Moicani o un ricordo ma ho capito ho anche scritto per intervistare Tom Cruise ho scritto una delle mie mie dicendo hello can we have quattro chiacchiere with Tom ma non ho risposto ma beh fai culo ma che Tom è lì lui sta sulla motocicletta però se vuoi ti rispondiamo a queste email queste email e centomila euro la prossima immagino vabbè sì io sono un po' più economico di Tom Cruise non costo niente mi piace che ci facciamo una chiacchiera e parliamo solo di cinema non so che sei però appassionato anche di cinema o non te ne frega niente sì sì no a me piace da morire il cinema non sono appassionato come quelli che si ricordano i nomi dei registi i nomi degli attori cioè io sono un amatore casual diciamo così me li guardo me li guardo tantissimi però senza studiarmeli dal punto di vista proprio diciamo senza studermi location se mi piace mi piace se non mi piace non mi piace molto spesso mi dimentico i titoli quindi sono proprio super così però lo adoro vedo tantissimi film però per fare video e fare diciamo lo youtuber in un qualche modo no cioè per fare il creatore di contenuti non pensi che uno debba per quanto sia negato cioè io sono negato ad esempio completamente in tui quasi in tutto però ugualmente devi sviluppare una sorta di occhio non dico cinematografico però alla fine deve uscire un video che c'ha un montaggio c'ha un ritmo c'ha un'idea quantomeno c'ha una ripresa da qualche parte la devi mettere a questa camera quindi non so uno comunque quella cosa la deve in un qualche modo sviluppare oltre alla conoscenza che si ha la chimica la biologia cioè però certo certo guarda ti dirò non lo so secondo me dipende tantissimo da cosa fai nel senso se tu fai cose cinematografiche cose che richiedono carrelli richiedono riprese particolari eccetera come noi come noi assolutamente noi che studiamo le luci eccetera io sono mi odiano tutte io adesso sto girando con una troupe per fare determinati video sul secondo canale dove andiamo a fare cose particolari stiamo organizzandolo sempre con scopo divulgativo ma sono più simpatici per me perché andiamo là ci passiamo una giornata con loro che alla fine sono amici però sono insomma che cos'è il secondo canale io ho un secondo canale che era nato per sfogare tutte quelle idee che avevo ma che non volevo buttare sul primo canale perché il mio canale è una sorta di galleria cioè nel senso è il luogo dove il mio Netflix personale il luogo dove io pubblico quello che so mi piace a me ci ho lavorato tantissimo eccetera ovviamente stiamo parlando di video che hanno richiesto hanno richiesto pure due mesi di lavoro non volevo mischiarli con video che mi sono venuti così il pomeriggio e ho fatto in mezz'ora sarebbe stato brutto anche proprio per l'opera che avevo costruito quindi ho fatto un secondo canale dove ho iniziato a fare cose contenuti user e getta adesso questo secondo canale ha preso diciamo un pochino una piega diversa e sono molto felice di questo perché stiamo andando qua troppo però appunto in giro a fare cose stiamo facendo cose un po' più fighe e niente il discorso è che stavo dicendo non mi ricordo sulla visione cinematografica ah ecco sì vabbè lì c'è un po' di roba cinematografica perché però se ne occupano loro perché loro si mettono lì con punti camera diverso mi dicono ad esempio vai passa da qua fai là eccetera io una visione cinematografica ce l'ho però non ho le competenze nel senso che quando giro i miei video di scienza brutta da solo molto spesso sono tipo ho cinque minuti per allestire le luci e mettere la videocamera dopodiché dovevo partire a bomba perché mi hanno dato il locale per due ore e quindi molto spesso faccio questa bestialità per cui loro mi odiano tipo mettere in auto la videocamera che è la tipo prendi fuoco se tu sei un esperto video amatore proprio prendi fuoco sapendo questa cosa io invece lo faccio spessissimo quindi sono una bestia di satana a tal proposito però sì l'ottica diciamo registica ce l'ho ma è un'ottica registica non cinematografica forse un po' più documentaristica che non ha le stesse regole poi so cosa mi piace so cosa voglio ottenere so cosa voglio realizzare però non avendo assolutamente la conoscenza tecnica per realizzarlo poi molto spesso mi arrangio trovo delle soluzioni alternative l'arte dell'arrangiarsi è quello che ci salva sempre assolutamente sull'arte dell'arrangiarsi ma non pensi volevo sapere se quando hai iniziato a far video trovando diciamo un medium provando un medium diverso rispetto a quella che magari al medium di divulgazione tradizionale di alcuni settori non hai attirato a prescindere dai tuoi contenuti subito un odio degli addetti ai lavori perché a me è capitato all'inizio quando facevo video e parlavo non so di marketing pur essendo appunto un autodidatta non sono uno che insegna marketing però mi appassionava come argomento da imprenditore tutti quelli che mi massacravano erano quelli che facevano marketing nelle aziende e dicevano ah che coglione questo fai video su facebook fai le battutine e quindi gli stava proprio sulle palle sta roba qua e non guardavo neanche i contenuti non c'è mai una critica sul contenuto da dire ah no questo è sbagliato era solo ah no ma è antipatico è presuntuoso è coso e quindi mi domandavo se hai vissuto questo passaggio oppure no beh sì l'ho vissuto ma credo che lo vivano tutti quelli che decidono di fare cose sul web in primis e poi farle come le faccio io in particolare perché io sono molto poco diciamo rispettoso delle cose vedi la scienza troppo spesso viene trattata con le pinze che è una cosa che io non sopporto cioè devi presentare la cosa su un piattino d'argento però attenzione e per carità è una cosa che va bene a livello accademico però pensare di fare questa cosa qui per cui devi sempre per forza cioè io ad esempio ho deciso nei miei video così come in tutto ciò che faccio dai libri eccetera eccetera di non usare termini scientifici troppo per addetti ai lavori termini che servono per quel determinato settore ma che poi si applicano soltanto in quel settore in quello specifico campo e che poi non ti spiega niente quando invece esiste un termine italiano che rappresenta la stessa cosa però può capire chiunque e io ho scelto di fare questa cosa perché per l'appunto il mio non è un testo su cui studiare per un esame il mio è un testo o un video divulgativo che ha lo scopo di far avvicinare a questo settore delle persone che non ne sanno niente e che soprattutto credono che sia noioso sia distante quindi proprio una mentalità diversa devo dire che inizialmente sono stato attaccato per il modo tipo mi hanno fatto le pulci per il fatto che parlavo di queste tematiche però mettevo parolacce però dicevo facevo battute però eccetera e mi scrivevano la scienza è una cosa seria e io gli rispondevo a me questa cosa proprio faceva ridere perché è seria ma non seriosa è una cosa diversa cioè la devi trattare con le pinze seriamente però non la devi trattare come se fosse qualcosa da prendere a distanza se no non concludiamo niente e sì ci sono successo un sacco di cose molto simpatiche però mi hanno fatto le pulci di questo e a distanza di anni a me fa molto ridere questa cosa perché sono nate dopo di me un sacco di altre pagine gruppi eccetera eccetera perché hanno iniziato a usare proprio il mio stesso identico linguaggio e quindi mi ha fatto molto ridere perché adesso tipo tra virgolette ho sdoganato questa cosa il genere però le bestemmie me le sono beccate solo io le insulti le cose me le sono beccate io adesso sì ho varie pagini che stanno usando proprio il mio stesso linguaggio mi fa strappiacere perché comunque insomma significa comunque in qualche modo le ho anche ispirate però è bellissimo perché io ricordo cosa ho subito all'inizio comunque siamo parlando di poche persone la cosa assurda che non mi aspettavo è che i miei video vengono visti a lezione ci sono professori che li mostrano che secondo me è assurdo io quando mi scrivono ad esempio ci hanno fatto vedere il professore il tuo video io rimango così perché non mi sembra un contenuto indicato però per qualcuno lo è quindi insomma tanto cioè sono felicissimo della cosa è pazzesco quindi va bene quando parliamo di siamo stati attaccati così come riguarda te ovviamente io ci tengo a mettere le mani in avanti e dire che non riguarda tutta la comunità dei divulgatori scientifici perché sarebbe assurdo e poi una comunità per quanto esista è fatta da individui e ognuno ragiona a modo suo ha i suoi interessi da difendere ha la sua storia da voler difendere e quant'altro ci sono state delle persone che in buona fede perché per carità avevano studiato dal punto di vista etologico che il mio modo di comunicare le cose poteva essere diciamo frainteso ed è giusto ma a livello accademico come sempre e ci sono altri che invece semplicemente difendevano una loro carriera avviatissima in cui parlavano di non lo so di natura ma lo facevano sulla carta stampata vedevano che i numeri erano molto sbilanciati verso chi produceva video e quindi lo capisco se mi metto in loro panni mentirei se ti dicessi che non capisco quella quella classica diciamo così un po' alla sedia mettiamolo così no quella cosa da dire sì ma io le faccio meglio queste cose io mi impegno di più io faccio dei testi così lo faccio da 20 anni io non ho manco pagamente questi numeri chi cazzo è questo lo capisco e infatti mettendomi in loro panni io mi sento sempre piccolo perché mi rendo conto che all'interno di questa dinamica io vengo percepito da queste persone come l'invasore come veramente il pirata che è arrivato e si è preso però in realtà in fin dei conti questo è semplicemente essere riuscito a aver riuscito a fare interessare a questi argomenti da persone che non erano toccate da quelli anche semplicemente per la questione mezzo è una cosa che mi fa molto specie perché lo puoi applicare nella divulgazione scientifica ma in realtà in qualsiasi altro campo cioè il mondo è cambiato insomma ognuno ha imparato a fare determinate cose bene però ovviamente intanto il mondo sta continuando a correre e adesso io mi sono ritrovato nella fortuna di aver utilizzato il mezzo giusto nel momento giusto però probabilmente diventerà obsoleto anche produrre dei video così lunghi nel prossimo futuro magari ci sarà la tecnica olografica prossimamente o mi inizio a farla bene oppure ci sarà qualcuno che la farà meglio di me avrà numeri enormemente più grandi rispetto a quelli a cui aspiro io è normale sono andato a vedere a Londra una a proposito di divulgazione non convenzionale di materie scientifiche c'è un programma televisivo che si chiama Operation Ouch qua in UK diciamo in teoria il pubblico è un pubblico di bambini ma di fatto è un pubblico che può essere molto ampio diciamo parte dei bambini spiega la scienza a un pubblico molto giovane ma poi interessa a tutti e poi loro portano a teatro un'oretta e mezza di diciamo di spettacolo e lo fanno in modo estremamente informale ci sono da tanti anni questi due ragazzi non mi ricordano se sono fratelli vabbè e praticamente a un certo punto non so dicono allora vediamo cosa c'è dietro al naso dentro al naso e prendono e infilano una sonda e tu vedi la camera dietro con questo che si infila ed è tutto fatto così un po' a volte che dici che schifo però è proprio vero te lo fanno proprio vedere così com'è non ci girano intorno lo spiegano in un mondo molto facile lo spettacolarizzano senza sminchiarlo che è una cosa molto difficile perché questo era l'altra curiosità che avevo a volte in un mestiere di divulgazione è facile che per rendere semplice vai proprio a super semplificare che diventa una roba che dice vabbè ma detta così però non è neanche giusta quindi c'è un limite tra fartelo capire mantenendo una credibilità una correttezza dell'argomento senza che però sia noioso perché dice aspetto so perso non ho capito niente come fai a trovare quel mix questa è la cosa più difficile diciamo che questo è quello che su cui lavoro maggiormente guarda io per scrivere un video ripeto ci metto mesi non è una questione di produzione è una questione di scrittura non è semplicemente anche andare a raccogliere le fonti che è una cosa lunghissima e anche trovare la giusta chiave di lettura capire qual è lo storytelling giusto da dove iniziare da dove finire cosa raccontare nel mezzo dove mettere dove non mettere e soprattutto cosa che molti ignorano la cosa più difficile è tagliare e tagliare perché ovviamente non puoi metterci tutto se ci mettessi tutto boh facilissimo devo scrivere in mezz'ora senza problemi non devo manco pensarci che dura quanto a due ore quanto a due ore però ci ho messo tutto non ci ho nemmeno pensato è finita la cosa più difficile è tagliare è scegliere su cosa mettere il focus scegliere quanto è giusto andare in profondità quanto o quanto quel dettaglio è inutile per diciamo raccontare l'argomento determinate cose due volte nel video io sto spiegando una determinata cosa dovrei aprire 25 milioni di parentesi e io sottolineo ragazzi adesso dovremmo aprire un sacco di parentesi noi prendiamo questa piccola cosa a volte questo è uno stratagemma c'è uno stratagemma devo dirlo palesemente perché ovviamente la cosa che sto dicendo non è totalmente precisa però non posso dirti la cosa completa perché altrimenti devo fare un video a parte o andiamo completamente fuori strada quindi ad esempio quando raccontavo in particolar modo delle proteine di come funziona il sistema di produzione proteica all'interno di un organismo umano lì stiamo parlando di biologia cellulare cioè lì ogni cosa che dici devi aprire 300 milioni di parentesi perché ci sono molecole che fanno 30 cose e sono regolate da altri fattori cioè è un bordello quindi lì l'unica cosa che ho fatto è dire ragazzi allora questa cosa fa tante cose tra queste c'è questa cosa ora non ci soffermiamo sul resto non ci concentriamo ti lo sto dicendo che sto approssimando quando si tratta in particolar modo di biologia cellulare bisogna fare per forza così altrimenti non se ne esce più specialmente se vuoi dimostrare un punto e quello che ti interessa dimostrare non riguarda quello ma è soltanto questo un mezzo per arrivare a dimostrarti quello che ti voglio dimostrare è un po' più facile quando si parla di animali ad esempio ne parlo spessissimo in scienza brutta lì si può scegliere davvero tanto l'argomento ovviamente bisogna aprire sempre le parentesi quando sono quando c'è in mezzo il fattore etologico che è quello più problematico però vedi anche lì insomma bisogna anche capire una delle critiche che mi facevano all'inizio degli etologi era quella di aver utilizzato l'evoluzione come personaggio perché io facevo la battutina del tipo il personaggio che andava dall'evoluzione gli chiedeva dei cettoni evoluzione e l'evoluzione gli dava degli carteschi che è ovviamente una scenetta degli etologi diciamo molto squadrati si lamentarono della cosa dicendo che io pensavo o stavo comunicando il fatto che gli animali scegliessero in cosa evolvere che secondo me è assurdo cioè se tu vedi un cartone animato che ti racconta male semplicemente a cosa servono determinati tratti o ti vuol far ridere poi è quello è uno sketch comico che ti sto facendo in quel momento non c'è niente di divulgativo il personaggio che va dall'evoluzione gli parla e con loro erano preoccupati perché qualcuno avrebbe pensato che davvero funzionava così che secondo me cioè devi avere dei problemi per pensare che davvero funzioni così cioè vorrei dire però vedi lì non è che ti apro una parentesi io do per scontato che tu abbia il buon senso di capire che l'evoluzione non esiste non c'è un personaggio della dingo picture a cui andargli a chiedere i cettoni di evoluzione soprattutto tu non puoi scegliere che cosa avere non è così che funziona però vabbè insomma questi sono non lo dici che ci metti mesi dimmi portaci dietro le quinte di come fai a fare un video da dove parti allora io parto sempre da vabbè tanto pensare le idee ce ne ho tantissime cioè se tu mi chiedessi quanti video voglio fare adesso ce ne ho tantissime ci sono alcuni che mi porto dietro da anni è soltanto che non c'è mai il momento giusto c'è sempre poi qualche idea che mi viene che secondo me è più urgente più immediata e quindi capito io ce l'ho un piano però viene continuamente riadattato all'esigenza e la cosa più lunga ovviamente è leggersi tutta la letteratura che c'è dietro per capire quanto insomma se ci sono delle informazioni interessanti come mettere le informazioni eccetera eccetera poi c'è il lavoro ovviamente di scrimatura dei video devo vedere una balanga di video che io taglio li guardo già sul programma di montaggio in questo modo riesco a tagliarla per argomenti l'animale che fa cose blocco 1 l'animale che mangia blocco 2 l'animale che fa sesso blocco 3 in questo modo su youtube un po' ovunque cerco ovunque perché ovviamente al momento il mio sogno è avere una truppa e dei mezzi per andare a girare un documentario come dico io cioè facendo scienza brutta ma con riprese origine però riprese origine al cento per cento non è così lontano la cosa ci stiamo organizzando ma infatti immagino che cioè è solo un fatto di aspettare un attimino organizzarsi però vedi adesso amo comunque io la serie su youtube non la mollerò mai perché il fatto di poter attingere al materiale anche del web mi dà la possibilità di raccontarti delle cose che ovviamente spaziano da qualsiasi settore se io vado a fare un documentario sulle orche in modo di recente sono andato a fare snorkeling con le orche ovviamente le riprese che ho delle orche sono relative alla mia esperienza però ci sono tantissime cose che sono state documentate nel corso degli anni di cui ovviamente comprare i diritti costerebbe io ci ho fatto già un documentario con Luca Perri che si chiama Infodemic è uscito su Prime ti dico che la cosa più costosa e la gente non si rende conto è comprare le clip che costano un fracco di soldi clip non girate da te e lì avevo speso un budget enorme perché se vuoi mostrare quella cosa che è successo devi comprarti il video e costa e dico quindi adesso posso attingere a del materiale molto diverso e ti posso raccontare o fare degli sketch bellissimi di cose che ovviamente non ho visto io di prima persona ma è stata catturata non lo so negli anni 60 da Tizio Tacayo e bla 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 quindi questo lo amo però sì insomma mi piacerebbe anche produrre qualcosa che poi possa essere tra virgolette distribuito anche su extra canali insomma idea metti giù sulla timeline premiere final cut non so che cosa usi premiere metti giù le varie clip in base diciamo a quello che hai in testa e poi e poi a questo punto io mi ricordo tutte le clip quando trovo delle clip particolarmente belle me le sono segnate a questo punto in genere tipo un testo di 30 pagine di informazioni di letteratura scientifica di informazioni che ho trovato e più queste cose qua e lì diventa c'è il lavoro di difficilissimo che è quello che mi richiede più tempo quello già richiede tempo sembra considerate che richiede davvero tanto tempo vedo un quantitativo di clip che è tipo di 200 300 clip a volte anche documentari di ore quindi richiede molto tempo poi ti ho detto mi leggo tutta sta letteratura a volte libri se ci sono libri sul tema non ci sono sempre ovviamente dipende dall'argomento e poi ti metti là le rileggi tutte e dici ok ora come iniziamo qual è la prima cosa personalmente la cosa che trovo più difficile sempre è l'inizio e questo riguarda tutto io sono anche autore dei miei programmi televisivi so che la puntata inizia e poi scorre tranquillamente nel momento in cui tu riesci a trovare l'intro giusto l'intro è la base se riesco a trovare un intro perché voglio fare sempre l'intro generale poi non voglio buttarmi nell'argomento voglio trovare un intro una cosa un po' sketch eccetera per riuscire ad entrare così portarci nell'argomento quella è la cosa che mi richiede per assoluto più tempo perché forse non richiederebbe nemmeno così tanto tempo è soltanto che io mi stresso nel pensare che non riesco a trovare la chiave giusta e generalmente le prime due righe mi richiedono giorni perché mi metto lì un poco poi cazzeggio poi rimetto poi cazzeggio eccetera fin quando l'ho trovato e poi c'è un punto in cui proprio va a valanga e a quel punto ci tratta soltanto di rileggere tipo cento volte e ogni lettura aggiusti sposti fai eccetera questa è una cosa che faccio veramente in modo minuzioso ma ci tengo che sia così proprio da operaio e poi nulla adesso ho un team di persone che mi aiutano ma mi aiutano nella fase di montaggio per quanto riguarda scienza brutta e e quindi niente a quel punto c'è una persona che è Willy Guasti che mi rilegge tutto il testo lui è uno zoologo si chiama Zosparco tra l'altro su youtube e rilegge tutto il testo per assicurarci che non mi sia sfuggito qualcosa che tutto sia chiaro perché ovviamente poi è meglio sempre avere un occhio da un'altra persona casomai se mi dice insomma li faccio rivedere anche sempre tutto il video perché volesse mai che a un certo punto il montatore per sbaglio ha usato non lo so specialmente quando si parla di arachnidi di rettili quello sbagliato eccetera e poi a quel punto niente ho un testo completo che giro al montatore in cui ci sono già scritti ad esempio qua va mostrato questo qua questo qua questo qua i tagli eccetera e mi smolla diciamo almeno due settimane di lavoro in questo modo io posso andare avanti con i progetti che adesso si stanno accavallando e giro io poi la fase finale di montaggio su scienza brutta la continuo a fare io perché ci tengo da morire e sono molto minuzioso anche nella messa delle musiche perché ci tengo da morire quindi le musiche le devo mettere io devo scegliere io gli effetti sono e tutto quanto la domanda che magari chi non è dentro a questo mondo ti sente raccontare come il livello di preparazione che serve per fare un video non 10 al giorno un video solo e dice wow questo qua è un mestiere cioè si arriva un sacco di tempo eccetera oggi è abbastanza chiaro quale può essere il vantaggio o il beneficio o come si fa a sopravvivere facendo questo perché di lì puoi avere libri tour mille attività che puoi fare quindi oggi è chiaro però quando hai iniziato che dicevo ok faccio un video ci metto due mesi a fare un video tra parenti nel frattempo cosa facevi per mangiare beh io quando ho aperto il canale ero uno studente di magistrale l'ho aperto con gli amici e non c'erano nessuna aspettativa facevo un video ogni tre mesi erano dei sketch comici era soltanto per cazzeggiare non c'era nessun obiettivo poi pian piano vabbè ho continuato perché mi divertivo io ovviamente senza costanza sempre una volta ogni mese ogni due mesi quando mi andava i numeri erano bassissimi ma continuavo a farlo perché mi divertiva e poi a un certo punto vabbè il canale è iniziato ad andare bene perché stavo seguendo una serie Game of Thrones e io all'epoca non volevo trattare di scienza volontariamente perché passavo la giornata in laboratorio e quindi ho detto torno a casa faccio video sulla scienza qua capito è sclero poi sono una persona a cui piace svariare svariare variare scusate e vabbè il discorso è quindi capito avevo bisogno tantissimo di curare quello per me era un passatempo era una cosa che stavo facendo per me quindi insomma quello è il lavoro quando vado in laboratorio e faccio il chimico il resto è passatempo quindi parlavo di qualcosa che mi interessava come esempio cinema e altro e poi vabbè a un certo punto però tra l'altro pensavo che non interessasse a nessuno a un certo punto però è scattato qualcosa perché mentre ero in dottorato ad Amsterdam una delle mie coinquiline era fissata con il panda e quindi io come faccio sempre con amici volevo sono iniziati i dibatti di discussioni eccetera ho iniziato a scaricare letteratura scientifica a studiarmi perché il panda facesse schifo io volevo demolire intanto lei continuava a mettere questi video del panda che va sullo scivolo che va sul dondolo mi ricordo che stavamo a Bruxelles in una trasferta e lei non ho mai avuto una coinquilina fissata sui panda c'è una dondolo che è stata la psicologia della coinquilina ho fissata sui panda ovviamente nel senso che quel periodo li aveva preso che doveva vedere video di panda che vanno sullo scivolo eccetera probabilmente continuava a vederlo perché sapeva che mi innervosiva e quindi capito io continuavo ad attaccare alla fine avevo creato un monologo che ripetevo a tutti gli amici a pranzo a cena eccetera ho detto vabbè lo condivido su youtube e il video il primo video di scienza brutta lo racconto sempre questa cosa perché secondo me è importantissimo andò male lì dove i video normali arrivavano anche dopo una settimana 70-80 mila visualizzazioni 100 mila normalmente perché intanto il canale era cresciuto questo qua fece 30 mila però quelli che facevano 70-80 mila visualizzazioni che è un bel numero erano comici era cazzeggio era cazzeggio non era niente di scienza era si chiamava la serie riassuntazzi dove praticamente facevo delle sorte di raccontavo un film o una serie eccetera in modo parodistico e basta era per divertirmi però facendo questo video su scienza brutta nonostante andò male molto male io mi ero innamorato nel senso che avevo trovato una chiave perfetta per fondere tutto quello che avevo imparato a fare per lo meno cioè delle cose comiche montaggi molto serrati molto estremi però metterci anche l'aspetto scientifico che a me ha sempre piaciuto raccontare cose che la gente non sapeva raccontare dietro le quinte lo facevo anche quando parlavo semplicemente di cinema però quello per me era un passatempo quando mi sono messo a parlare di queste cose mi sono reso conto che potevo raccontare delle cose molto belle e che tra l'altro io stesso volevo studiare perché io sono chimico non sono un zoologo cioè non sono esperto di animali quindi per preparare il video sugli animali io mi dovevo fare un culo così e studiarmi un fracco di roba che ho sempre voluto studiare ma che non ho mai avuto il tempo di farlo perché ovviamente se tu hai un lavoro hai un canale da gestire e facevo conferenze all'epoca eccetera eccetera non ce l'avevo mai fatta e quindi a quel punto ho detto fa niente che sto video ha fatto poche visualizzazioni fa niente che non gli piace a nessuno io questa roba voglio continuare a fare e quindi niente mi sono diciamo che ho avuto ragione su lungo termine non c'era nessun obiettivo divulgativo da parte mia è semplicemente che io amavo fare questa cosa amavo raccontare la natura in questo modo e soprattutto scoprirla io in primis forse anche questo è il vantaggio perché io capisco cosa potrebbe affascinare perché io sono il primo che si affascina in fase di studio capito ora ovviamente insomma ho più competenze di quelle che avevo all'epoca e proprio per evitare di commettere degli errori che insomma non vorrei mai commettere proprio perché questa cosa è diventata molto seria mi sono reso conto di avere un potenziale divulgativo di raccontare la scienza importante mi sono circondato da persone a cui posso chiedere consulenze posso chiedere specificazioni posso chiedere di semplicemente di leggermi un testo per essere sicuro soprattutto quando non sono sicuro di determinate cose e quindi nulla è nato come questo io ero un chimico che si è messo a cazzeggiare e poi a un certo punto ho detto sta cosa mi fa impazzire e quando c'è stato un passaggio perché immagino oggi cioè questo è è diventato prioritario sì tra l'altro ti assicuro che io soffro della sindrome dell'impostore come chiunque penso questo è perché poi parlando in giro ho scoperto che non sono l'unico io sto sempre a pensare probabilmente è successo per caso però riconosco una cosa in maniera obiettiva che i miei ritmi che avevo in quel periodo non li avrebbe retto nessuno nel senso che io mi ero impuntato di voler fare almeno un video ogni due settimane in quel periodo mentre ero indottorato mentre facevo ricerca mentre facevo conferenze mentre facevo di tutto e ricordo che ero veramente super cioè stressato l'altro poco non dormivo tornavo a casa dal lavoro alle nove e mi mettevo a girare un video e a montarlo perché ovviamente facevo tutto quanto io erano dei ritmi veramente super serrati che continuo a portare avanti molto spesso tipo questo è un periodo identico e secondo me se non avessi fatto quella cosa ora non saremmo qua a parlare quindi cioè questa cosa me la riconosco mi sono messo sotto c'è un lavoro dietro un gran mazzo un gran mazzo c'è un lavoro dietro che molto spesso non arriva ed è il motivo per cui a un certo punto alla fine del del mio dottorato io mi sono guardato allo specchio più che altro perché ero molto infelice della mia vita in quel momento nel senso che la ricerca si era che era il mio sogno da sempre cioè ti giuro io volevo fare ricerca nella vita poi facendola mi sono reso conto che non era come mi aspettavo e soprattutto che quelli che lo facevano da una vita non facevano più ricerca in pratica erano diventati delle persone che scrivevano progetti che in altro po' non entravano in laboratorio eccetera eccetera avevo identificato una figura che mi piaceva a quel punto la figura che si avvicinava di più al mio ideale di ricerca che era quello penso che si chiamasse project leader nell'azienda di Amsterdam c'era questa figura era in sostanza lo scienziato capo quello che amministra tutte le ricerche lo scienziato capo mi piace la definizione il re scienziato era praticamente quel tizio che piuttosto che andare in laboratorio e fare la stessa cosa tutti i giorni è il tizio che amministra tutte le ricerche quindi tutto sì tutto ciò che c'è da diciamo che viene fatto passa per lui nel senso che gli porta via le cose lui guardava i risultati provava a capire dove fosse l'errore dove fosse quale fosse la direzione giusta si studiava la letteratura per essere insomma è il tizio che amministra tutte le ricerche era la cosa che amavo di più mi sarebbe piaciuto di più fare però tra l'altro saresti stato un po' vincolato a delle aziende quindi poi lì entra in gioco ti piace l'argomento ti piace il coso eccetera e quindi hai detto basta fare lo scienziato capo anche non sarà no nel senso ho detto va bene però nel frattempo era scoppiata la pandemia io ero bloccato in Italia e ho detto mi prendo un anno sabbatico per pensarci e e ti dico veramente l'ultimo forse gli ultimi due anni di ricerca per me sono stati orribili sono finito nel posto sbagliato o poi lascia stare che questa è una cosa molto importante lavorare con le persone giuste l'atmosfera di laboratorio insomma se trovi il posto sbagliato veramente lo odi e io ricordo che ogni volta che entravo in laboratorio o meglio proprio nell'edificio mi sentivo questa pressa al petto come se stessi per andare in apnea e passavo la giornata in apnea perché quello che facevo non mi stava piacendo però me lo sarei fatto andare bene però avevo diciamo una situazione all'interno del laboratorio che era così brutta dal punto di vista umano proprio nemmeno nei miei confronti ma proprio era un'atmosfera diffusa per cui proprio io stavo male e non era la prima volta che capitava nel mondo perché al fine sono stati in un sacco di laboratori alcuni sono stati bellissimi non me ne sarei mai voluto andare in altri sono stati terrificanti forse pure peggio di questo quindi nulla mi sono guardato lo specchio mi sono detto vogliamo continuare a fare questa cosa per la gloria perché voi è quello sostanzialmente o vogliamo provare a fare questa cosa che invece ami per chi amavo farlo che ti permette di fondere tutto le tue competenze scientifiche le tue competenze da intrattenitore e soprattutto se ti interrompo a mantenerti all'inizio perché all'inizio questa cosa non porta delle entrate no? sì due lire due cioccoli magari da youtube se fai un po' di numeri però cioè non puoi campare di quello ma nel mio primo pagamento o meglio il mio primo io ricordo tre centesimi guadagnati nel mese me lo ricordo bellissimo e era tipo un giorno ci camperò mi compri un caffè no comunque beh io lavoravo facevo ricerca mi pagavano tra l'altro avevo una bella borsa di studio quindi rispetto ad altri ricercatori diciamo che me la passavo anche abbastanza bene però cioè non era quel discorso ti ripeto non ho mai sofferto non è che l'ho fatto per una questione economica anche perché quando ho smesso di fare ricerca io ancora non ci campavo di questa roba io l'ho fatto ci campavo più per gli spettacoli per dire perché ho iniziato a fare spettacoli nel frattempo e altro però era quello che mi piaceva fare ora io posso mettermi posso fare di tutto però giunto la conclusione che quello che io sognavo di fare ho scoperto non è fattibile ho scoperto che quelli che fanno proprio la mia quello che io stavo aspirando di fare cioè la carriera accademica poi non fanno più ricerca diventano sostanzialmente delle persone che leggono i mail dalla mattina alla sera e che soprattutto fanno politica guardano cioè scrivono bandi per avere fondi eccetera eccetera che è quello che io non volevo fare e a meno che non avessi fatto il ricercatore per altre vie brava brava insomma lunga storia e per me la scelta è stata facile io avevo preso un anno sabbatico nel frattempo è successo di tutto ho scritto due libri ho iniziato a fare spettacoli ho continuato a fare divulgazione sui vari social nel frattempo mi avevano dato un programma eccetera eccetera cioè io lì mi sono detto vabbè io questa cosa amo proprio farla e ovviamente le mie competenze scientifiche non sono buttate le sto usando tuttora e sto continuando a usare e sto continuando a studiare che poi la cosa che mi piace di più a me è sempre piaciuto studiare andarmi a documentare a trovare le fonti dimmi una cosa e ti sei lanciato tra televisione social e libri e teatro l'ho chiesto anche a Pintus l'altro giorno perché ero curioso di capire come si muoveva tra i vari tra i vari scenari come ti trovi perché sai uno può essere bravo magari a fare un video ma poi lo vedi su un palco e fa ridere o non so scrivere per dire non so scrivere e quindi no cioè hai proprio dei delle modalità di comunicazione tu dove ti trovi guarda io non lo so lo vivo in modo tutto molto fluido e ti dico la verità nel senso che non riesco a distinguere una linea netta forse perché tutto quello che faccio sul web lo faccio anche in tutte le altre parti esattamente cioè nel senso che io se vieni a vedere uno spettacolo mio sembra lo spettacolo nuovo in particolare sembra scienza brutta live quindi è quello gli altri spettacoli sono sostanzialmente io che ti racconto cose come lo racconto nel secondo canale cioè voglio dire se mi segui tra virgolette sai cosa cioè non sarai deluso da venire allo spettacolo secondo me perché è quello che già ti racconto spessissimo poi sono stato fortunato perché per i programmi mi hanno dato sempre totale libertà tanto che adesso il programma che stiamo facendo adesso lo sto praticamente facendo col mio team tutto quanto e quello è con il mio linguaggio non è che ho cambiato linguaggio e sono diventato di colpo Mike Buongiorno che sono sempre io che parlo come me questa tipologia di linguaggio o l'hai dovuto un po' aggiustare? secondo me funziona ti dico che inizialmente le televisioni avevano paura perché ovviamente loro hanno io ho capito una cosa della tv loro hanno due cose che hanno bisogno di tra virgolette rispettare la prima è dimostrare allo spettatore che questa cosa che stanno facendo è ad alto budget quindi non puoi assolutamente permetterti di fare cose approssimative che io amo le cose approssimative secondo me fanno ridere però le cose approssimative le puoi fare ma devi in tutti i modi far capire che effettivamente l'hai fatto apposta perché hanno sempre questa paura di risultare dei video di youtube no? e d'altro canto hanno delle dei paletti non mentali però forse di esperienza non so forse se parleremo in futuro ti dirò avevano ragione loro avevo ragione io però molti mi dicono ad esempio il nostro pubblico potrebbe non capirlo il nostro pubblico potrebbe storcere il naso per poche cose però siamo parlati sempre di battute e altro e quando secondo me in realtà il successo del web sta proprio nel fatto che si è inventato un linguaggio che è diverso da quello televisivo e quel linguaggio non è del web è il linguaggio attuale del mondo e di queste generazioni anche quelle vecchie secondo me quindi non è tanto che le persone non sono pronte o potrebbero malintendere determinate cose è più che altro che non lo hanno mai avuto non hanno mai avuto proprio la possibilità di avere quel tipo di prodotto perché generalmente lo fanno tutti più o meno nel stesso modo le cose stanno cambiando tantissimo ti dico all'interno ho visto che c'è un interesse estremo nel coinvolgere persone che fanno cose in modo diverso e per po' perché le fanno in modo diverso io l'esempio che faccio spessissimo è la serie di Zero Calcare è presente? non lo ho visto ok la serie di Zero Calcare quella che lui ha fatto per Netflix non è una serie da Netflix è una serie da YouTube ha un montaggio che è da YouTube ha un ha degli stratagemi narrativi che sono tipici di un video di YouTube ha addirittura delle citazioni buttate lì a caso che sono quelle di YouTube quello è un video di YouTube messo su Netflix ed è piaciuto da morire perché è Zero Calcare è Zero Calcare per carità però il linguaggio di Zero Calcare è quello di Internet ora si è parlato un sacco della serie di Zero Calcare perché è una serie diversa ma che significa una serie diversa? è semplicemente che gli hanno dato la libertà di fare quello che fa in genere cioè l'Internet in formato cartaceo e di portarlo su Netflix a più alto budget diciamo però scusa come fai a diciamo unire se tu carichi un video su YouTube o Facebook Instagram ti tocco o quello che è hai alcune tipologie di pubblico poi sempre più mischiate non è sempre più un mischione però insomma magari ti tocca un po' più giovane in questo momento anche se è in crescita un target ma anche più diversamente giovane mettiamola così se invece vai su Rai 1 Rai 2 chi è che guarda Rai 1 Rai 2 no? cioè non è che ha 15 anni questo per me è un vantaggio cioè nel senso però quello che voglio dire è che quel linguaggio che funziona su un certo tipo di pubblico quando magari un uno di 60 anni che invece non passa tempo tanto sui social che è abituato a dei codici linguistici diversi a dei tempi diversi a delle convenzioni diverse a degli atteggiamenti diversi cioè a tante no? a un rettaggio culturale diverso a quel punto come lo unisci? perché magari piace magari no no? quindi questo è anche un altro aspetto guarda io parlando con un sacco di miei fan di membri della mia ciurba nelle filiere negli eventi di altro che sono vanno da tutte l'età sono da anziani a giovani perché parliamo di scienza e la scienza unisce tutti è la cosa fantastica non c'è un target preciso se dovessi dire qual è la maggior parte del target principale delle persone che mi segue è fascia universitaria ma semplicemente perché è la fascia diciamo dei più attivi su youtube al momento dipende sempre dal social giustamente da tutto il resto però ci sono un sacco di persone che non hanno manco l'account google perché hanno una certa età non l'hanno mai fatto eccetera eccetera però guardano i miei video e mi hanno detto no mi hanno fatto vedere mia figlia e io come li vedo da solo una nipote mi aveva scritto io guardo i video con mia nonna e lei ogni tanto mi dice ma è uscito il video nuovo che ce lo vediamo queste ovviamente sono aneddoti che non è un campione statistico però il discorso è questo secondo me inizialmente se tu vedi un mio prodotto e non sei abituato al mio prodotto ovviamente sei un po' stranito hai bisogno di un po' di tempo per capire cosa sta succedendo questo è certo però dopo che l'hai capito non importa l'età sei dentro non c'è un modo giusto e sbagliato e semplicemente sei dentro il problema è che non c'è mai stato quindi non ho mai manco avuto la possibilità di poter dire la loro e dire no questa roba a me piace perché non frequentando youtube tu guardi la televisione la televisione è quella quindi in che occasione tu puoi dire no ma pure a me spiace sta roba io sono convinto che anche le persone che sono abituate a Maravenier che per carità è un colosso eccetera però è diverso da quello che faccio io potrebbero essere è ancora in televisione in Italia Maravenier penso di sì io non c'ho manco una televisione a casa al momento perché sono appena trasferito però cioè io penso che possa essere un linguaggio assolutamente universale nuovo e interessante poi insomma avrà un pubblico diverso magari o forse lo stesso pubblico chi lo sa però è il linguaggio che piace ai ragazzi è quello che piace agli anziani e semplicemente ti ripeto che secondo me non hanno avuto la possibilità di dire la loro perché non sono mai stati posti davanti al prodotto le cose ti ripeto stanno cambiando perché io lo vedo c'è un interesse davvero ampio da parte della televisione di iniziare a utilizzare dei linguaggi sempre nuovi io sono felicissimo tra l'altro di vivere in questo periodo perché adesso si sta sperimentando tantissimo e forse forse ci sarà una nuova rinascita della televisione chi lo sa sotto altri formati ovviamente perché ormai è tutto smart tv e quindi devi riuscire anche a competere con questa cosa c'hai anche un sacco di offerta hai talmente tanti attori adesso che prima non c'erano quindi c'hai l'amazon prime e coso apple tv certo ogni due minuti ce n'è uno e quindi è anche interessante come alcuni magari dicono ok proviamo magari prima c'avevi capito rai media set finiva lì in italia o qua la bbc basta non c'era nient'altro è chiaro che era difficile spaziare invece qua c'è sempre anche più offerta io ho parlato di recente con una rete non dico quale però loro mi hanno detto mi hanno detto proprio questa cosa noi vorremmo fare un prodotto tipo netflix è una rete nazionale importantissima loro hanno detto tipo netflix cioè l'hanno preso netflix a esempio questo è la rappresentazione di un interesse cioè è il classico mercato che cambia tu devi seguire il mercato devi capire se quelle cose vanno bene vuol dire che lì c'è una buona fetta di mercato e comunque cioè se parliamo proprio del linguaggio io sono convinto che quella è la strada non puoi più continuare a fare le cose che non le faccio un tempo se vuoi continuare a fare veramente stai tenendo stai aggrappandoti a quelli che sono abituati a quel linguaggio e basta dimmi per il teatro invece sei in giro a teatro in questo momento sei tourreggiante sì devo annunciare ancora le prossime date in realtà sto cercando di mettere le date in ogni buco possibile il problema serio è che adesso sto facendo tantissime cose in parallelo e davvero sto sacrificando tantissime ore di sonno per farle ma sono felici siamo così a teatro scusami come ti organizzi cioè se è un tour tuo se vai dove ti chiamano a fare diciamo dei monologhi degli speech come sei organizzato dipende dipende tutto da cioè a volte mi chiamano mi piace la situazione e dico di sì oppure non lo so è è perfetta il luogo diciamo che stiamo dicendo tantissimo no adesso perché ovviamente le richieste sono tante e come ripeto cioè casomai tipo giugno io so di avere non più di sette giorni a disposizione per fare spettacoli quindi stiamo fissando in base a dove mi trovo insomma tipo mi trovo lì in ti faccio esempio Puglia sto due giorni vabbè fissiamo uno spettacolo in Puglia perché sto su due giorni là e mi devo gestire in questo modo perché nel momento però appunto sto girando per un sacco di altre questioni e quindi ho bisogno di ottimizzare un pochino il calendario però sì per ora è così per ora ci stiamo organizzando che andiamo ci abbiamo l'agenzia che si occupa di chiamare i teatri organizzare lo spettacolo e tutto quanto però ci sono delle occasioni in cui tipo mi chiamano per fare tipo dovrebbero uscire presto fine giugno dovrei andare all'università di Catania per fare lo spettacolo in quel caso non c'è biglietto cioè vai con gli studenti no no c'è il biglietto c'è il biglietto l'hanno messo perché io preferisco mettere il biglietto perché lo spettacolo che sto portando in giro si chiama Amore Bestiale e non è ideale per tutti anche e sottolineo anche che forse dovrebbe essere evitato ai bambini diciamo così perché comunque è molto sto facendo quello che non potrei fare su YouTube quindi insomma si parla di amore si parla di bestie si parla di accoppiamento si parla di peni è come The Batman dovresti essere vietato esatto quella è la mia aspirazione vietato ai minori di 18 anni ma no bellissimo 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 no no sì 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 comunque per questo poi vabbè ci sono altri spettacoli che faccio poi dipende c'è lo spettacolo vecchio che il genere non esiste probabilmente faremo altre date di quello lì dove non siamo riusciti ad arrivare tipo la Sardegna riuscì a fare soltanto una data poi scoppiò la pandemia quindi interrompiamo tutto però vabbè vediamo un pochino mi consigli per chiudere questa chiacchierata un libro e o un film serie televisiva assolutamente da leggere da vedere che ti è particolarmente piaciuto in questo periodo allora un libro che mi è particolarmente piaciuto guardati di recente sono riuscito a trovare il tempo di leggere cavolo io non mi ricordo i titoli dei libri neanche io come si chiama quel libro perché sto leggendo uno che è molto molto bello ma che argomento è la storia di un ricercatore che praticamente è riuscito a a scoprire come funziona e la talpa dal museo stellato e poi raccolta altre cose che praticamente è il territorio famosissimo a me io sono pessimo comunque ce n'è un altro che mi sentite di consigliare che non è scientifico ok che si chiama allora datemi un secondo è quello là dai io sono io a ricordare i nomi ho dei problemi serissimi perché mi godo tutto però il nome proprio non me ne frega niente inizio a leggere è un libro è un libro è un libro no ma questo era proprio bello vabbè ragazzi scusate però farò sapere passa a Silma o alla serie televisiva che a meno se mi dai inizio te lo te lo indovino serie televisiva guarda ho visto di recente proprio l'ultima cosa che ho visto vabbè a parte Better Call Saul che ovviamente è fenomenale ho visto anche Bang Bang Baby su Prime Video che è una serie prodotta in italiano cioè da italiani e a me è piaciuta molto 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 c'è una fotografia incredibile una regia veramente bella e ben scritta molto ben scritta e hanno creato una roba che io adoro perché hanno usato la mafia calabrese però nelle scene in cui interviene la mafia calabrese c'è un'atmosfera quasi da gatto e la volpe di Pinocchio non so bene come raccontartela c'è un'atmosfera quasi fatata è un po' come se stai entrando in Narnia ogni volta in cui ci sono le scene con la mafia calabrese diventa tutto quanto esagerato come se fosse un sogno onirico quasi ed è una cosa che adoro alla follia e mi è piaciuta molto quindi si la consiglierei me la vado a vedere non sei il primo a suggerirla it's time has come è arrivata la mafia calabrese no non ho capito cosa ah mi suggeriscono scelta su Amazon gli ultimi libri acquistati ma ne ho acquistati altre 30 nel frattempo come dopo annaccia e quindi sì perché io leggo tantissimi libri e li leggo anche in parallelo anche per questo riesco a cioè non ricordo bene i nomi perché leggendone tanti tra l'altro molti li leggo anche per studio proprio per li prendo come se fossero dei compiti a casa cioè ho la pila e passo da uno all'altro velocemente in base a dove mi trovo viaggio qual è quello più lungo che ho preso al momento prendo questo lo leggo eccetera quindi ho un casino in testa vorrei arrivare un giorno al tuo livello che ho una persona soltanto per ricordarmi quali libri ho letto ho capito come hai tu che hai la suggeritrice la suggeritrice è solo il suo compito è solo i libri che hai letto il tuo compito è ricordarmi i libri che ho letto però non li ricorda come tu puoi fare sei pessima in questo compito mi ha un mille spazi hai ragione povertà è colpa mia grande ci vediamo alla prima occasione spero di venirti a vedere a uno spettacolo da qualche parte e se invece tu passi vieni a fare uno spettacolo a Brighton merita insomma un pubblico molto scientifico veniamo a traumatizzare anche Brighton perché no grazie ciao caro ciao grazie mille un abbraccione